Musica Benvenuti al concerto appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di mercoledì 23 gennaio. Purtroppo il maltempo continua con piogge sull'intera campagna. A Avellino infatti cieli molto nuvolosi o coperti con piogge per l'intera giornata, i venti saranno deboli. A Napoli cieli coperti con piogge in temporanea intensificazione pomeridiana, i venti saranno deboli, mare mosso. A Salerno pioggia per l'intera giornata, i venti saranno deboli, mare mosso. A Benevento cieli molto nuvolosi o coperti per tutto l'acqua della giornata con piogge dal pomeriggio, i venti saranno deboli. A Caserta cieli molto nuvolosi o coperti con piogge in temporanea intensificazione nel pomeriggio, i venti saranno deboli. Le temperature a Avellino, temperatura massima 6 gradi, 2 gradi la temperatura minima, 10 gradi la temperatura massima a Napoli, 7 gradi la temperatura minima. 10 gradi la temperatura massima anche a Salerno, la minima sarà di 7 gradi. A Benevento 8 gradi la temperatura massima, 3 gradi la temperatura minima. A Caserta 10 gradi la temperatura massima, 4 gradi la temperatura minima. Ed è tutto anche per oggi.